Salve signora Lucia, mi vorrei presentare. Sono Valentina Bivona, ho sei anni e frequento la prima B. Ancora per poco, perché fra un po' finisce la scuola. Abito nelle Marche e sa qual è il mio sogno più grande? Venga che glielo dico. È fare l'attrice. Sì, sì, lo so che lavoro molto difficile, ma a me piace un sacco. E spero tanto che lei mi prenda per la sua fiction. La saluto e le mando un bacio.